Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di San Polo. La comunità della piccola frazione continua a stringersi attorno alla famiglia Mugnai e dalla parrocchia di San Polo adesso arriva anche una raccolta fondi. Sentono che quest'uomo ha bisogno non solo di un aiuto materiale ma anche di un conforto psicologico da dire che non sei solo, che si capisce. La comunità di San Polo si è subito stretta alla famiglia Mugnai già nei terribili giorni successivi all'omicidio ed adesso ha deciso di sostenerla anche economicamente dando vita ad una raccolta fondi. Sono due le vittime veramente, sia chi non c'è più sia chi è arrestato. Era lo scorso 5 gennaio quando Sandro Mugnai aveva sparato al vicino Gesim Dodoli perché stava tentando di distruggergli la casa con una ruspa. Era stato arrestato la notte stessa, poi scarcerato dopo tre giorni. Secondo i GIP, Giulia Soldini avrebbe esercitato la legittima difesa sua e della famiglia. Chi si capisce, c'è chi già comprende quello che è successo. Non ad un gesto di violenza gratuita ma ad un istinto naturalissimo di difesa. 4.000 euro i fondi già raccolti e consegnati alla famiglia Mugnai. La colletta prosegue ad occuparsi nella parrocchia di San Polo. Il tetto è mezzo grollato insomma, quindi serviranno per tutto perché così da poi c'è da pagare le spese, sono l'avvocato. Questa mattina infine è stato conferito l'incarico al professor Mario Gabrielli chiamato ad eseguire l'esame medico-legale sul corpo della vittima. Il prossimo lunedì sarà il turno della perizia balistica. Cinque colpi di carabine esplosi da Mugnai, quattro quelli andati a segno. Nella morale cattolica per esempio si deve impedire la ingiusta aggressione. Cosa vuol dire? Se per esempio Tizio sta aggredendo ingiustamente Caio o Caia che sia, io che vedo e assisto sono tenuto moralmente ad impedire che questo avvenga. Quindi andiamo a stare lui. Chiaro? La parola infine passerà alla procura con la PM Laura Taddei che una volta raccolte tutte le relazioni relative al delitto potrà decidere se chiedere l'archiviazione per legittima difesa oppure andare avanti nell'inchiesta. Scontri tra tifosi in A1 che la scorsa domenica hanno seminato il panico tra gli automobilisti sono stati scarcerati altri due ultra. È tornato in libertà anche l'ultra del Napoli Antonio Marigliano arrestato in flagranza di ferita per gli scontri della scorsa domenica sulla A1 tra romanisti e napoletani che avevano bloccato un tratto di autostrada e seminato il panico nell'area di servizio Badia Alpino dove nel 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri. Il GIP del Tribunale di Napoli ha deciso di non convalidare l'arresto dopo aver visionato un video presentato dall'avvocato che assiste il tifoso. L'uomo era agli arresti domiciliari ed è stato denunciato per rissa aggravata. Gli inquirenti gli contestano anche il possesso di oggetti atti ed offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive. Dei quattro fermi effettuati dopo gli scontri tra tifosi dunque l'unico a vedersi convalidato l'arresto è stato l'ultraromanista Martino Di Tosto. Il giudice del Tribunale di Arezzo, Elano Apisto, lo aveva comunque scarcerato sottoponendolo all'obbligo di firme di dimora nel comune di residenza. Di Tosto era stato arrestato dopo che i compagni lo avevano scaricato con ferite da taglio alle gambe davanti al pronto soccorso di Arezzo. Poi erano fuggiti. Il processo per direttissime è stato aggiornato al 25 gennaio. Due ultra della Roma erano stati invece già rimessi in libertà. Il GIP di Roma non aveva convalidato l'arresto sulla base della flagranza di ferita. Adesso tutti gli atti passeranno ad Arezzo. Parliamo delle pecore sbranate a Rigutino. Adesso il proprietario Marco Bruni ha scritto una lettera alle autorità per chiedere un intervento per risolvere quello che dalla popolazione è vissuto come una vera e propria emergenza legata alla presenza sempre più vicina alle abitazioni dei lupi. Una lettera indirizzata al prefetto, al vicepresidente della regione toscana, al presidente della provincia e al sindaco di Arezzo. Alcuni esemplari sarebbero stati infatti avvistati vicino ad un parco giochi. La richiesta dunque alle istituzioni è quella di un intervento urgente. E ci spostiamo adesso a San Zeno. Questa mattina una visita della senatrice Simona Petrucci all'impianto di recupero integrale. Un impianto definito dalla senatrice all'avanguardia. La senatrice Simona Petrucci in Commissione Ambiente al Senato in visita all'impianto di San Zeno. Un impianto, ha detto, strategico e un esempio a livello nazionale. Perché un impianto che in pochi anni passa da fornire energia a 20.000 persone, a 70.000 persone, è un grande impianto strategico perché riesce a fornire a tutta questa zona l'energia che serve. Quindi assolutamente un esempio da prendere, non solo a livello aretino, non solo a livello toscano, ma anche a livello nazionale. Il rifiuto deve essere considerato come una risorsa, dice la senatrice, che ha visitato per la prima volta l'impianto integrato di gestione e smaltimento rifiuti di San Zeno, punto di riferimento per tutto lato Toscana del Sud, dunque per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. La raccolta differenziata non è un incubo, come dicono in molti, ma è un passo avanti per tutti, per le future generazioni. Cosa fare a livello nazionale? Tanto, c'è da rivedere completamente una norma, che è il testo unico ambientale, c'è da rivedere quello che è il decreto legislativo successivo, il 116 del 2020, c'è da rivedere il concetto di rifiuto. Quindi penso che siano un grande lavoro, dei grandi passi da fare, da farsi aiutare però dalle amministrazioni locali, perché solo grazie al loro contributo riusciremo ad apportare quelle modifiche vere, quelle modifiche esecutive e non solo teoriche, come fino ad oggi ci sono state. Siamo in un momento storico dove tutti i cittadini hanno toccato con mano cosa significa avere un paese in carenza di energia, quindi prezzi praticamente impazziti, delle volte quintuplicati, e impianti come questi che fanno della città una vera e propria miniera urbana di rifiuti e possono produrre energia, sono una risposta concreta attuabile anche in tempi brevi, piuttosto che andare magari a percorrere strade estremamente lontane nel tempo. Qui si tratta semplicemente di comprendere quanto il processo di termovalorizzazione, di produzione di biometano e di produzione di compost possa rigenerare sul posto tutta una serie di energie che altrimenti andrebbero comprate altrove. È stata quella di questa mattina anche l'occasione per ribadire l'impegno dell'azienda nel limitare il più possibile disagio alla popolazione dovuti alla raccolta dei rifiuti umidi. Sentiamo. Il comitato aretino Stop Puzzo non si arrende, continua a fare le sue segnalazioni sul gruppo Facebook e attende soprattutto le risposte da parte di enti ed istituzioni interessati al problema. Battifolde, Le Poggiola, Ruscello, Chiani, San Zeno, Pieve al Toppo, Vicomaggio, Olmo, Ripa di Olmo, Pescaiola e Via Malpighi, queste le zone dove i cittadini spesso lamentano il problema dei cattivi odori. Un problema del quale è stata interessata anche Aisa Impianti dello scorso 29 dicembre, l'incontro proprio con il suo presidente Giacomo Cherici, che anche oggi in occasione della visita della senatrice Petrucci all'impianto ha ribadito il suo impegno. Noi non stiamo lavorando per eliminare i disagi, noi siamo perfettamente consapevoli della situazione, noi stiamo lavorando per identificare tutte quelle che sono le fonti emissive. Facendo questo lavoro potremo sicuramente andare a fare degli investimenti che sono poi soldi di tutti voi cittadini, investimenti che sono e devono dare un risultato, altrimenti se non c'è un'indagine conoscitiva preliminare, ma un'indagine fatta con metodo scientifico e dato oggettivo, andremo a fare degli investimenti al buio e quindi questo non va bene. Cosa significa intervenire più sulla raccolta? Significa organizzare dei modelli di raccolta dei rifiuti che facciano sì che questi rifiuti non sostino per tanti giorni magari fermi in stazione di trasferenza, quindi produzione rifiuto con ferimento veloce. Questo lo si fa tenendo presente dove sono gli impianti, le loro capacità e quindi facendo ciò, ad esempio con la raccolta differenziata della frazione organica, si vanno ad eliminare dei tempi che chiaramente producono delle fermentazioni che poi danno dei cattivi odori. Quindi si tratta semplicemente di applicare dei criteri logici e del buon prade di famiglia per organizzare ottimi circuiti di raccolta perché non occorre solo guardare la percentuale di raccolta differenziata, quanto si è fatto, ma occorre guardare la dotazione impiantistica. In tal senso mi sembra che la senatrice Petrucci sia stata molto chiara, quindi di andare a fondamentalmente fare un'operazione che possa anche riconsiderare quei territori che hanno impianti come un valore in più e quindi premiarli. Sicuramente noi su questo tema ci lavoriamo, non è che ci nascondiamo dietro un dito, che in certi momenti ci siano questi disagi è evidente e che si voglia intervenire per far sì che si azzerino completamente è anche altrettanto evidente. Quello che però io chiedo ai cittadini che hanno questo tipo di disagio non dateci tempo, ma abbiate un minimo di pazienza, cioè ci si sta lavorando sopra. Noi siamo sempre dalla loro parte, l'ha detto pochi minuti fa il senatore Petrucci che tra l'altro ha avuto un percorso gigliato perché lei viene da una professione dove lavorava sull'ambiente, ha fatto l'assessore all'ambiente a Grosseto e ora è in commissione ambiente al Senato. Quindi voglio dire, se queste persone si impegnano per questo tipo di risposta nei confronti dei cittadini, dateci fiducia. Parliamo ancora di rifiuti, ma ci spostiamo in Valdichiana, Castiglion Fiorentino, dove arriva un primo bilancio del servizio Stop Amianto. Smaltiti correttamente circa 500 kg di amianto. Ad un anno dall'attivazione del servizio di Sei Toscana denominato Stop Amianto, dall'ufficio ambiente del comune di Castiglion Fiorentino arriva un primo bilancio. Circa 10 kit consegnati ai privati durante l'anno appena terminato, già consegnato un primo nel 2023. Il servizio offre infatti la possibilità ai privati cittadini di poter rimuovere in autonomia l'amianto presente negli ambiti di pertinenza delle abitazioni o dei locali di altro genere. Il comune partecipa ai costi di presa del carico del materiale e dotazione kit, restano invece carico del cittadino i oneri relativi allo smaltimento e all'apertura della pratica a USL. Un servizio per tutelare la salute pubblica e l'integrità ambientale, oltre che per prevenire il fenomeno dell'abbandono dell'amianto. Si tratta infatti di un materiale molto diffuso in natura, largamente utilizzato in passato, ma che diventa pericoloso quando le sue fibre si disperdono nell'aria. Il comune di Castiglion Fiorentino, così nel rispetto delle linee guida sull'amianto redate dalla regione toscana, ha pensato di attivare il servizio opzionale di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiale in cemento amianto da parte dei privati cittadini. Il kit per l'autorimozione contiene tutti i dispositivi di protezione individuale e i materiali idonei per l'imballaggio dei manufatti da rimuovere, previsto anche un manuale con tutte le istruzioni per l'uso che i cittadini dovranno seguire in maniera puntuale. È infine presente anche un video tutorial che spiega passo passo tutte le operazioni da fare. I consiglieri del Partito Democratico, di Arezzo 2020 e del Movimento 5 Stelle chiedono con una mozione l'istituzione di un fondo anticrisi a sostegno del reddito delle famiglie e delle imprese. Vediamo il servizio. Arezzo, come tutta l'Italia, sente la crisi. Da parte del Partito Democratico c'è un appello preciso nei confronti dell'amministrazione Ghinelli affinché trovi una soluzione per tante persone che in questo momento hanno bisogno. Sì, abbiamo presentato un atto di indirizzo insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle di Arezzo 2020 appunto perché l'amministrazione comunale costruisca un fondo anticrisi. Ci sono le risorse del bilancio comunale, ci sono avanzi di oltre 10 milioni di euro e l'amministrazione comunale al netto di piccoli sporadici interventi che ha fatto deve strutturare questo fondo in maniera precisa, concreta per dare risposte ai cittadini, alle imprese e alle associazioni. Ora è il momento che l'amministrazione investa in questo settore e dia sostegno alle famiglie. Ecco, soprattutto avete rivolto la vostra attenzione anche a quelle che sono le strutture che potrebbero dal punto di vista energetico dare una mano alle tante famiglie in difficoltà. Eh sì, purtroppo sì. Io invito tutti ad andare a vedere i tetti dei palazzi dove ci sono le case popolari e vi accorgerete che purtroppo non c'è neanche un pannello fotovoltaico. Penso che sia importante mettere veramente in pratica le comunità energetiche per poter dar sollievo a quelle famiglie che ovviamente vivendo nelle case popolari non hanno capienza economica tale da poter affrontare tutte le spese. Allora un sostegno è mettere il pannello fotovoltaico nei tetti per dare sì che le bollette si attenuino per tutte quelle famiglie in difficoltà. Noi di tematica l'attenzione del comune in questi due anni della seconda legislatura di Ghinelli ne abbiamo portate tantissime dalle comunità energetiche come la città Vazzagami ad altre proposte legate alla povertà educativa al disagio giovanile abbiamo fatto davvero tante proposte in questi due anni il problema è che abbiamo dall'altra parte una giunta e un sindaco che vogliono non sentire che non ascoltano le nostre proposte che non le prendono in considerazione per un approccio prettamente ideologico dato che vengono dalla minoranza non sono da prendere in considerazione voglio vedere cosa dirà Ghinelli e la giunta con 13 milioni di tesoretto in cassa come farà a dire di no ad un fondo anticrisi che sostenga gli aretini e le aretine in difficoltà ecco di fronte a questo io credo che i cittadini debbono a quel punto mobilitarsi ci sono 13 milioni spendiamoli per far fronte alle difficoltà che tanti aretini e tante aretine hanno nella loro vita quotidiana e Ghinelli non può pensare che si amministra una città solo con i palloncini di Natale e gli alberi di Natale e le ruote panoramiche si amministra prima di tutto facendo fronte alle difficoltà sociali dei cittadini e delle cittadine l'occasione c'è mettiamola in campo attenzione alla circolazione e alla sossa nel centro cittadino la prossima settimana il rifacimento delle strisce blu nei relativi stali comporterà lunedì 16 e martedì 17 gennaio dalle 7 alle 20 il divieto di sosta con rimozione in via Le Signorelli nell'area compresa tra via Ristoro d'Arezzo e via Guadagnoli all'altezza del Civico 13 nei parcheggi e pagamento di via caduti sul lavoro le aree interessate ovviamente saranno delimitate da apposita segnaletica a Cortona invece giovedì 19 gennaio alle 18 incontro dedicato al piano strutturale del comune di Cortona si tratta di un'occasione di condivisione dedicata ai tecnici l'incontro a cui prenderà parte il sindaco l'ufficio tecnico del comune e l'estensore del piano si terrà nella sala del consiglio comunale e si potrà partecipare anche da remoto voltiamo pagina anche quest'anno la Polizia di Stato parteciperà ad Arezzo Classic Motors la mostra scambio di veicoli da collezione giunta alla sua venticinquesima edizione potranno così essere ammirati i veicoli che hanno fatto parte della storia della Polizia dagli anni 50 agli anni 80 dello scorso secolo rigorosamente coi colori di istituto che negli anni si sono susseguiti e che tutti abbiamo notato sulle strade d'Italia nonché i mezzi attualmente in uso la rassegna aprirà i battenti sabato 14 gennaio alle 8 e 30 fino a domenica 15 alle 18 ed Arezzo questa sera torna in prima serata su canale 5 alle 21 e 20 infatti è in programma la prima puntata della seconda stagione di Fosca Innocenti una fiction crime anche dai tratti rosa che vede come protagonisti Vanessa Incontrade Francesco Arca c'è grande attesa per la serie tanto da far già parlare della terza stagione di certo non mancheranno i rettini questa sera incollati allo schermo visto anche l'alto numero di comparse con spiccato ovviamente accento a retino e ieri sera invece si sono accesi i riflettori sulla stagione 2020 del Teatro Verdi di Monte San Savino con il primo appuntamento rollato come il tabacco schiacciato dentro una cartina rollato che poi è un sentimento di molti di noi credo di noi ultra cinquantenni sentirsi inadeguati non protagonisti della propria vita rollato di Econ Paolo Giovannucci al Teatro Verdi di Monte San Savino è stato il progetto artistico dell'attore romano noto per i tanti ruoli impersonati tra cinema e televisione ad accendere i riflettori sulla nuova stagione teatrale la tiene ferma è una mano coarta non te muove che te spesso le vede delle mani Giovannucci nello spettacolo ripercorre la sua vita un percorso a tappe suddiviso per capitoli un flusso di coscienza pop in rima condito da un pizzico di ironia ed accompagnato da musica elettronica suonata dal vivo è uno spettacolo dove si ride ma è anche ironico insomma di cui si lamenta questo personaggio insomma che manca appunto ci sentiamo più soli rispetto a qualche tempo fa e la pandemia il lockdown il periodo in cui è nato questo testo più per disperazione quindi che per necessità racchiudeva un po' tutto questo questo senso di solitudine che poi appartiene un po' a noi e di isolamento e di voglia anche voglia di stare da soli che è un po' diverso però che rende poi la comunità molto difficile da creare noi ed io io che nascosto dietro noi mi sento più protetto io meno solo noi come con una donna mercoledì 18 gennaio invece un nuovo appuntamento al Verdi arrivano non tre sorelle un progetto teatrale che ha portato all'incontro sul palco tra attrici ucraine e italiane partendo da un testo di Cechov un gruppo di attrici ucraine arrivate in Italia grazie al progetto di accoglienza Stage for Ukraine è stato infatti coinvolto in questo spettacolo per cercare di fare memoria del loro e del nostro presente e dopo le polemiche che si erano accese la comunità ucraina chiedeva infatti che lo spettacolo venisse annullato adesso arriva l'ufficialità il concerto ad Arezzo di Anna Netrebko soprano russo uno dei più amati al mondo si farà ad annunciarlo il sindaco Alessandro Ghinelli abbiamo condiviso il principio dell'indipendenza dell'arte e della cultura e per questo motivo all'unanimità il CDA della fondazione Guido di Arezzo ha deciso di confermare il concerto non è in discussione il nostro sostegno al popolo ucraino siamo contrari alla guerra ma il messaggio dell'arte va oltre l'auspicio conclude quindi che proprio la cultura in questo caso la musica aiutino a raggiungere la necessaria pacificazione il concerto dunque è in programma al Teatro Petrarca per il prossimo 7 febbraio passiamo adesso alla pagina dello sport al basket domenica 15 gennaio ultima giornata del girone d'andata Perlame scuola basketarezzo che scenderà sul parquet palla sprint di La Spezia per affrontare lo Spezia Basket Club di Coccio Scocchera imbattuta davanti al pubblico amico lo Spezia punta decisamente al salto di categoria Perlame in un test particolarmente duro che precede di una settimana un'altra trasferta sul campo della legnaia con cui si aprirà il girone di ritorno palla 2 in programma alle 18 Il 2023 invece è partito alla grande per la scherma Aretina si è svolto lo scorso 7 gennaio a Siena il campionato regionale Under 14 e i schermidori Aretini non si sono fatti trovare impreparati conquistando ben a due titoli regionali un argento un brozzo e quattro finali ad otto una prestazione che ha permesso di conquistare il medagliere tra le società toscane nella specialità del Fioretto una giornata partita alla grande con l'appuntamento più atteso e prestigioso le categorie allievi conquistata da Niccolò Cecconi altro titolo regionale ottenuto dalla giovanissima Federica Gamberini dunque ottime prestazioni che fanno ben sperare per gli importanti appuntamenti di fine stagione Questa per stasera era l'ultima notizia vi ricordo dopo il TG l'appuntamento con le eccellenze gastronomiche con Gustar vi ringrazio per l'attenzione arrivederci per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione